ciao ragazzi bentornati sul mio canale allora questo è un video spacchettamento dell'album Yves Rocher 04 andiamo a vedere subito la mia cliente cosa ha ordinato finalmente è arrivato questo pacco ci sono pochi prodotti ma comunque ci tenevo a mostrarli allora per prima cosa vi mostro questo qui è l'aceto da risciacquo per capelli quello la purezza che vi ho mostrato già in altri video ed è veramente ottimo da utilizzare dopo lo shampoo e diciamo anche un costo molto piccolo lo potete acquistare facilmente quindi dipende a volte si trova a 7,95 ma a volte lo troviamo anche a 4 euro poi abbiamo questo fondotinta che è un colore questo qua beige 050 poi abbiamo questo qui che è una confezione di dischetti per il makeup all'interno ne escono tante sono 100% cotone e devo dire questi li utilizzo anch'io e mi trovo molto bene poi sono anche economici costano solo 1,95 sono arrivati questi qui che sono gli album 05 che poi magari vi mostrerò qui abbiamo questo qua il tra di noi e poi vediamo addirittura l'album 06 qui come sempre la Yves Rocher ci manda le buste cosa molto gradita per noi consiglieri di bellezza e poi ovviamente la fattura e come ultimo prodotto e non meno importante abbiamo qui questa bellissima palette vediamo se riesco ad aprirla senza rompere la confezione eccola qua guardate quanto è bella facciamo piano vediamo ecco qua veramente bellissima ragazzi la dobbiamo acquistare in tante guardate guardate che bei colori per cato che c'è la telecamera che non so se riuscite a vedere guardate che bei colori soprattutto quelli centrali sono bellissimi la chiudo subito perché non voglio rovinarla perché della cliente che dire spero che questi prodotti vi siano piaciuti che questo mini ordine vi sia piaciuto e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video e vi ricordo di condividere il video lasciare un like iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video con altre novità ciao ragazzi ciao